Allora Andrea Botti sta per fare un piccolo spettacolo qui a Villanova a luglio con caldo rovente Andrea che si prova a essere uno stuntman, a fare uno stuntman? Cosa si prova? Tante emozioni, privido di cadere ogni 5 minuti Anche quello di far divertire no? Sì, sì, sì Come siamo? Questa è una moto che hai personalizzato? Sì, è un Kawasaki 636 Un Kawasaki 636 2005 Che sta già pronto per qualche spettacolo che farei adesso qui nella piazza Ok, allora buona bevuta Tu hai un sito internet, vogliamo dirlo A tua parte di questo team qua, SWOTGANG.COM SWOTGANG.COM, che fa? Sono stuntman, sono stuntman? Sì, ho capito Grazie 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 Grazie